Allora, sotto le note di una bella paranza, una bella birra gelata con una vista lago, io credo che non mi manca nulla oggi. Alle 13 vado alla Baia dei Porci e mi raccomando, seguitemi. Ecco i navigatori che iniziano l'avventura per la Baia dei Porci. Qui, alla vostra sinistra, il catapereno più veloce del mondo. Sono addetto alle riprese, facci un cazzo oggi. Piegale bene! Eccola la raffica buona veloce, eccola! Amira! Yuhuu! 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 Si ho isho lo si è! Sì, è vero. facciamo i coglioni allora da che parte sta la baglia la baglia di porci è qui di fronte a noi adesso il vento incalza e attraverso pieno tracchi dolci morbidi morbidi e dolci non apprezzo stiamo sotto l'albero il colore cambierà tra un attimo e avremo l'opportunità di vedere questo verde smeraldo eccoci eccola con la magia del lago no allora stiamo tra il sole e l'ombra qualche paperella in acqua che si diverte un saluto al circolo stanno arrivando bravo del studio stramba stramba che tepello lo sbandamento della barca si vede giusto quindi stiamo tutti quanti messi con la testa in su poi c'è quella luce là bella il vento è meraviglioso assai veramente poi come facciamo per uscire tocca riscuffiare la barca per tornare dritti stiamo salpando ritorniamo a casa la bella spinta poi vai dove vai tu vai 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 ecco quella era la spinta non indietreggiare lo so no non gira guarda come guarda come gli parte attorella non partite prima voi guarda come prende il vento attaccate così ci girano insieme attaccate attaccate brava ecco tecnica pura di navigazione fantastico ci ma io bro Grazie a tutti.